ciao a tutti benvenuti o bentornati miei carissimi un po creativi in questo canale sono vincenza e oggi siamo al nostro terzo appuntamento con il lettering prima cosa avete fatto gli esercizi spero di sì mi raccomando perché sono quelli che poi faranno sembrare tutto più semplice oggi cercherò di essere più breve si l'ho detto anche la scorsa volta effettivamente poi non l'ho fatto ma stavolta ho pensato di fare una lezione un pochettino un appuntamento non mi piace dire lezione un pochettino più veloce in maniera tale che magari con il tempo che passa si memorizzano più cose perché vorrei accennarvi la prossima volta ai tre stili base del lettering perché il lettering non è solo quello che si fa con le brush pen tutto bellissimo meraviglioso mi piace tantissimo il lettering con la brush pen però ci sono altri diciamo ce ne sono tanti altri però quelli principali sono tre e vorrei parlarvene però la prossima volta in maniera tale che sia da alternare degli appuntamenti un po più veloci più pratici e degli appuntamenti un po più teorici andiamoci così quello che vorrei solamente dirvi adesso che nei tre stili di cui vorrei parlarvi c'è la monolinea questa monolinea è diciamo la base la cosa più lo stile più semplice per poter fare del lettering è quello che poi ci consentirà non lo dita altavoce ci consentirà di fare il finto lettering ecco perché ve ne vorrei parlare poi in maniera più più approfondita per fare monolinea serviranno solamente la penna oppure la classica penna questa questa della micron tipo così è quella semplice quella che così semplicissima che va dalla qui io ce no una che parte dalla 5 dalla 0 5 alla 1 perché poi da quelle punto in poi diciamo si cominciano a fare i pennelli diciamo quella pennello volevo appena appena accennare da questo è quello che si può fare anche con la classica penna la bit la grinta quella semplice perché in quel caso nel lettering che si chiama proprio lettering monolinea diciamo che tra i tre stili è quello più semplice perché non si dovrà fare nessuna pressione differente la larghezza della linea è costante e non ci sono lettere più spesse se ascendente o discendente quindi è la più facile alla fine gli esercizi di oggi sono un po più complessi diciamo però noi abbiamo fatto quelli allora poi c'è la mia paginetta fatta e abbiamo fatto quello così discendente e poi quello discendente come abbiamo detto ascendente leggero discendente pesante discendente pesante ascendente leggero adesso li combiniamo e quindi facciamo ascendente leggero e poi ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero e faremo così un una paginetta sempre per avere la mano più leggera poi in seguito ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero leggero io ogni tanto me ne vado fuori in quadratura perché poi faccio in grandi diciamo lo zoom e quindi poi il rischio di uscire fuori ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero poi ne faremo uno simile ascendente leggero ascendente leggero ascendente leggero ascendente leggero ascendente pesante lo facciamo un po più complicato però ci permetterà di poter come dire fare operazioni di manovra più limpidi al punto che poi quando prenderemo la penna la brush pen che è quella più difficile sarà uno scherzetto quindi ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero discendente pesante e ci fermiamo così senza fare lo svolazzo vi ricordate lo svolazzo e l'ornamento la differenza tra le due cose poi facciamo una cosa un po più retta sempre seguendo l'ascendente leggero ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero discendente pesante una sorta di M perché è quello che ci aiuterà a fare le M tra le altre cose ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero discendente pesante qui sono andata un po fuori perché con il telefonino di Nancy non è proprio facilissimo ascendente leggero discendente pesante ascendente leggero discendente pesante poi faremo una cosa in piccolo e faremo una curva leggera e una curva pesante una curva leggera e una curva pesante prendendo sempre come riferimento un quadratino ascendente leggero curva leggera curva pesante curva leggera curva pesante curva leggera curva pesante curva leggera curva pesante vi direi di farlo sempre con un quadratino di distanza perché altrimenti facendo così prima esperienza secondo me verrebbe un po' più complicato perché poi questa l'andremo a stringere per questo appuntamento vi saluto adesso questi sono gli esercizi una pagina per ogni segno che abbiamo fatto la prossima volta parleremo appunto di un altro stile non abbiate fretta questo è quello che vi voglio dire io vi posso dire una cosa sono pure una persona che vorrebbe fare tutto e subito avere la bacchetta magica e fare tutto velocemente però vi posso assicurare che questo è uno di quei momenti che è meglio fare le cose con tranquillità perché per adesso come come dicevo la scorsa volta può sembrare un tratto diciamo noioso però è la base per fare di meglio dopo è come un palazzo se non ci sono le fondamenta fatte bene poi la parte di sopra cade giù facciamo delle solide basi io vi saluto vi mando un abbraccio enorme vi ringrazio per essere qui ringrazio tutti tutti coloro che mi hanno scritto delle cose meravigliose anche quando ho fatto un post in particolare il mio non voleva essere una cosa una polemica ecco assolutamente è una cosa che mi dispiaceva perché cerco di portare sempre qualcosa che possa interessare se poi non interessa nel tempo mi dispiace perché mi sembra di avere sbagliato a proporre quella cosa ecco quindi vi ringrazio vi abbraccio tutte strettissime tutte e tutti strettissimi alla prossima e mi raccomando fate gli esercizi ciao